RIFIUTATE LE COSE MONDANE CERCATE LA SALVEZZA NELLE FIAMME Eccone un altro ragazzi Li facciamo E intanto si è fatta notte e facciamo un punto di osservazione e andiamo a Fare il prossimo, ma sei una testa di minchia sei Che diavolo, ma perché? Eeeh, perché casca così? Che arriva a lui Ma che vuoi colpire? Che cosa vuoi colpire? Che cosa vuoi colpire tu? Però uffa, si è fatta sera, non mi piace la sera Da Stansi's Creed, si è aperto il conflitto Fantastico Va bene, mi sfidi, capito Non l'ha colto Ora l'ha colto Va bene RIFIUTATE LE COSE MONDANE CERCATE LA SALVEZZA NELLE FIAMME NATURA MORTA ASSASSINA L'ARTISTA TRAVIATO Mi sa che non bisogna essere visti Ah, il trampolino è lì, ok Quindi Vale a dire Un cazzo Ok, possiamo essere visti E così mi credevo un altruista Un testimone Un predicatore Perfetto Ma in realtà mi sbagliavo Il diavolo è mai Ma funziona Ma è bellissimo Dove è sto qua? Beh, possiamo essere visti Tranqui Bene la guerriglia Adoro Adoro Si può quell'armi lunga Rompono il cazzo, raga Che non avete idea Ma avete tutto il cazzo Vieni qua, vieni qua Bersaglio, vieni qui Ma bastardo Si era fermato E fuori un altro Schifo Non eri padrone di te stesso Ma lo ero Il mio dubitare Gli ha permesso Di legarmi a sé Mi Mi dispiace Anche a me Non è una scelta Che compio a cuor leggero Requiescati in pace E di certo non mi metto a combattere contro tutta quella gente lì quindi Me la dilego è buona A parte Non che dovrebbe essere così difficile Altra parte liberata Vai Paolo Guida lì 2000 fiorins E andiamo così Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti